Coach, domani una partita importante contro la Gemma, un'avversaria in crescita che, come abbiamo detto tante volte, è uscita ridisegnata dal mercato. Un test importante per la Copa Fulia. Sì, ora le partite da qui in fondo sono tutte importanti. Affrontiamo un avversario in salute che ha fatto delle ottime prestazioni ultimamente e che sicuramente non è la scuola dell'andata. Noi dobbiamo affrontarla una alla volta, con grande umiltà, tenendo bene i piedi in terra e cercando di confermare una buona prestazione di Pavia. Ecco, una settimana più serena, passami il termine dopo le due scompette che abbiamo preceduto in match di Pavia, perché questi due punti hanno di fatto quasi segnato la certezza di essere quantomeno nelle prime otto. Sì, non è aritmetica, però è quasi matematica, perché poi alla fine gli altri si giocano anche tra di loro e quindi abbiamo quasi blindato il fattore campo nel play-in. Ora chiaramente si tratta di trovare quello che potrebbe essere l'accoppiamento migliore. E chiaramente vincere ci aiuta a vincere, quindi la segretà è sicuramente più alta rispetto alle settimane passate. Il clima com'è? Il clima è buono. Alla fine questa è la scuola che ha sempre lavorato con grande abbregazione, con grande impegno, con grande atteggiamento. Ho fallito in qualche prestazione, però devo dire che il lavoro durante la settimana e l'atteggiamento durante la settimana sono sempre stati ottimi.